Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi un video un po' particolare perché se ancora non lo sapete dal 25 marzo al 21 aprile ci sarà il 25% di sconto su tutto il catalogo Bao valido ovunque tranne che sul sito di Bao Publishing che l'ha fatto anche per non entrare in competizione con tutte le realtà che rivendono i loro volumi e quindi perché non suggerirvi una serie di titoli per farvi spendere tutti i vostri soldi ma tanto li spenderò anch'io sulle cose che mi mancano e quindi volevo suggerirvi un po' di titoli che in questi due anni io ho letto e che ho profondamente amato e quindi perché non suggerirvi una serie infinita di titoli che secondo me sono molto validi e sui quali, se non l'avete ancora fatto, sarebbe bene mettere le mani io ovviamente ne ho già parlato in lungo e in largo, spesso di questi volumi però, insomma, questo è un breve recap dei miei titoli preferiti Bao e quindi partiamo parto subito dalla parte macigni sullo stomaco così ci togliamo subito il... ok? il primo titolo che vi suggerisco è Motor Girl di Terry Moore ne avevo parlato in un wrap up tempo fa, non mi ricordo quale però ve lo linkerò qua su la Tiffany del futuro ve lo linkerò qua su e questo è uno dei volumi che più mi è piaciuto negli ultimi anni proprio in generale Motor Girl racconta la storia di una ragazza che lavora in un auto demolitore in mezzo al deserto insieme a lei però c'è spesso questo gorilla che è un suo amico che però non è solo un suo amico, è qualcosa che lei immagina e un giorno si troveranno ad avere a che fare con un alieno che atterra proprio in questo auto demolitore e arriveranno degli uomini del governo che cercheranno proprio di espropriare e la realtà dove lavora questa ragazza per installare un congegno che tiene lontano gli alieni detto ciò questa storia sembra molto strana e basta ma è una storia molto intensa che soprattutto ha a che fare con la salute mentale soprattutto certe cose che si immaginano, si parla di solitudine, si parla dell'affrontare anche temi molto più grandi di noi io ho finito questo volume in una pozza di lacrime infinita mi è piaciuto moltissimo, l'ho dovuta interrompere più volte perché è veramente molto intenso non l'ho interrotto spesso perché non mi stava piaciuto l'ho interrotto perché veramente avrei passato tutto la lettura di questo libro a piangere è veramente molto commovente ma soprattutto ha un modo di raccontare quelle che sono determinate questioni legate alla salute mentale che vi sorprenderanno perché non è così banale come viene impostato si scopre solo a un certo punto quando c'è questa grande rivelazione e io ve lo consiglio moltissimo a prezzo pieno, basta 19 euro quindi approfittatene per gli sconti perché questo volume non vi deluderà assolutamente a proposito di valle di lacrime poi come non citare in realtà potrei citarli praticamente tutti ma anche il porto proibito ma io vi citerò Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi questo volume mi ha distrutta e l'ho letto la stessa sera dopo aver letto Saga 9 della quale vi parlerò dopo e non so come ho fatto non so come ho fatto a sopravviare, tuttora mi vengono i brividi e mi si strozza la voce Non stancarti di andare è una storia che ha moltissimo a che fare con l'attualità Ismail è un ragazzo che è arrivato in Italia dalla Siria, insegna arte e dopo un percorso abbastanza complesso riesce ad arrivare in Italia e si innamora di Iris e poco dopo scopriranno di aspettare un bambino ma Ismail a un certo punto deve tornare in Siria per mettere a posto alcuni documenti e da lì inizierà la vera tragedia di questa storia ovvero la difficoltà nel tornare che avrà molto a che fare con la guerra in Siria, che avrà molto a che fare con tantissime realtà raccontate qua dentro ve lo giuro sto venendo i brividi solo a parlarne perché tutte le volte che ci penso sto male e quindi la smetto è una graphic novel estremamente intensa tratta dei temi con una delicatezza tale che è sbalorditiva secondo me è veramente molto intensa però mai pesante mai retorica e non lo so però riesce ad essere una pugnalata nello stomaco comunque io ve lo consiglio perché questo è un autoregalo da farvi doveroso è qualcosa che veramente vi segna e vi rimarrà per tantissimo tempo come tuttora io mi ritrovo a pensarci ogni tanto e l'anno vero sicuramente tra le graphic novel più belle che io abbia mai letto a prezzo pieno costa 27 euro perché è come vedete molto molto corposa quindi è l'occasione giusta per accaparrarvelo ad un prezzo un po' più umano e sempre parlando di gioie e dolori in questo caso vi parlo di Papaya Salad di Elisa Macellari al di là del fatto che sia esteticamente bellissimo già dalla copertina e questo è in dubbio Papaya Salad è una storia che parla di famiglia è una storia intensa infatti Elisa racconta una storia autobiografica del nonno che è tailandese ma è che per dei casi fortuiti della vita, quelle che sembravano grandissime occasioni si ritroverà in Germania negli anni 40 durante ovviamente la guerra e senza sapere che la Thailandia è diventato un alleato della Germania è una storia che mi ha colpito nella sua semplicità, nella narrazione nel collegare sempre piccole cose, aspetti che non cambiano mai come il legame con il cibo che è un qualcosa di molto identitario in questo caso la Papaya Salad che è un elemento che era molto ricorrente nella cultura del nonno che li identifica e dall'altro lato anche come apparentemente una vita così lontana da certe tematiche, da certi argomenti, da certe rivoluzioni e macro eventi potremmo dire, si ritrova invischiata proprio con questi e Lisa lo racconta in una maniera molto splendida secondo me io ve lo consiglio moltissimo perché al di là del fatto che è una delle mie preferite dal punto di vista grafico e tecnico ha delle tavole bellissime, molto delicate richiama tantissime cose, da grande spazio al bianco è proprio bellissimo però ha un modo molto delicato di raccontare quella che è una storia veramente molto pesante, molto traumatica e nel farlo anche dagli occhi di una bambina perché è la storia del nonno questa cosa a me è piaciuta molto a prezzo normale sarebbe 21 euro quindi io vi suggerisco di accaparrarvelo ora ha anche degli effetti molto particolari sia sulla copertina che all'interno quindi ha dei pregi cartotecnici, grafici, estetici veramente molto molto bello è una delle mie graphic novel preferite del 2018 vabbè poi come non parlarvi di quella che è la rock star che io ho letto negli ultimi mesi ovvero Cinzia ve ne ho parlato nell'ultimo wrap up Cinzia è una graphic novel di Leo Ortolani e io sono rimasta scema da questo volume ve lo dico sinceramente in termini terra terra Cinzia infatti è la donna che ogni uomo vorrebbe essere Cinzia è Cinzia è una personalità esuberante una persona transessuale che però non ama definirsi e che vive la sua vita cercando di essere il più fedele a sua stessa possibile è una graphic novel che alterna moltissime tematiche perché se da un lato ci fa ridere davvero dall'inizio alla fine e prende con molta leggerezza alcuni aspetti della vita quotidiana affronta però dall'altro lato delle difficoltà oggettive che tutte le persone transessuali vivono quotidianamente la discriminazione la difficoltà nel trovare un lavoro la difficoltà anche nel riuscire ad accettarsi avere una vita normale nel riuscire proprio nel fare le cose quotidiane trovare un ragazzo eccetera perché c'è anche difficoltà proprio nell'avere dei documenti a norma è un libro che comunque riesce a spiegare tutti questi concetti con estrema ironia senza però banalizzare mai nulla e questa cosa mi ha molto colpito per me è bellissimo io ve lo consiglio tantissimo perché Cinzia è una rock star vi innamorerete di lei anche voi e non c'è proprio dubbio che questo non accada ha a che fare ovviamente moltissimo con le tematiche LGBT ma non solo e quindi io vi consiglio di leggere Cinzia di diventare suoi fan perché lo diventerete io ne ho la certezza Cinzia ha un prezzo di 20 euro nel catalogo regolare quindi se volete un po' di sconto questo è il momento sempre visto che ci stiamo trattando dell'ultimo wrap up e degli ultimi video ovviamente come non suggerirvi Indomite adesso ho il 2 chiaramente da qualche parte chiaramente c'è anche l'1 che a me è piaciuto tantissimo Indomite è una collezione di biografie a fumetti di una serie di personaggi femminili che hanno in qualche modo fatto una piccola rivoluzione grazie alla loro storia e secondo me è un volume adorabile che vi suggerisco tantissimo se non avete letto il primo ovviamente recuperate il primo il secondo a me è piaciuto addirittura di più quindi non fatevelo scappare è edito normalmente a 20 euro e come per tutti le cose arrivate prima io ve lo suggerisco molto passiamo però alla sezione dove ci tiriamo un po' su di morale e dove c'è tutto squarta squarta io no non solo un po' di avventura un po' di temi fantastici e cose di questo tipo perché sono tra le mie tre serie preferite e il primo che vi cito è chiaramente The Wicked plus The Divine Gillian McKelvey e Winston Collis e The Diviners praticamente è una storia che ha molto a che fare con la mitologia in maniera però molto fuori dalle righe perché ogni 90 anni 12 dei si reincarnano nel corpo di ragazzi umani e come sempre diventano o molto amati oppure vengono odiati totalmente ma dopo due anni muoiono e sarà un casino non so come non farvi spoiler se non dirvi le informazioni fondamentali allora a me piace moltissimo primo perché è un volume molto strano il primo vi sembrerà molto strano sarà difficile ricostruire bene la storia ma andando avanti diventa sempre sempre più pazzesco i disegni sono bellissimi perché riescono a combinare qualcosa di macabro qualcosa di molto scuro e un po' squarta squarta violenza violenza con invece un ambiente esteticamente molto appagante non so come dirvi ha moltissimi rimandi alla cultura pop al mondo moderno e non solo citazione su citazione è bellissimo The Wicked and the Divine a me piace moltissimo ve la suggerisco tanto per ora in Italia sono editi i primi tre arriverà anche il quarto a breve e insomma è l'occasione giusta per iniziare a recuperarlo sono pubblicati a 19 euro l'uno quindi se volete mettere avanti le mani intanto io ve lo dico e come non citare dopodiché le mie adorate Lumberjanes io voglio diventare una scout dopo averle scoperte no non è vero non lo diventerò mai mi cacciano dopo 4 secondi comunque le Lumberjanes sono un gruppo di amiche che si conosce a un campo estivo di sopravvivenza potremmo dire però sono un po' le reiette di questo campo sono quelle che combinano sempre guai quelle che ne fanno sempre una è scritto da Noel Stevenson insieme a Shannon Waters i disegni sono di Caroline Nowak allora io le ho amate proprio non so come dire sono un gruppo di amiche che esprime tantissimi concetti legati proprio all'amicizia a un qualcosa di solido valido da sostenere ci sono un sacco di situazioni esilaranti e sono adorabili cioè una volta che entrerete nelle Lumberjanes non le mollerete mai più non è possibile che voi le possiate abbandonare io le amo e le adoro e sono adorabili per ora in Italia sono stati pubblicati i primi sei volumi e ognuno di essi costa 14 euro io ve lo dico vi divertirete un sacco quindi fatelo è adatto sia ad un pubblico abbastanza giovane ma non so ha esaltato me tantissimo quindi io lo consiglio un po' trasversalmente ma poi io lo so che ve lo sentite dire continuamente da me lo so che lo ripeto sempre bla 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 sono noiosa sono vecchia quindi sono noiosa ma alla fine della fiera voi con questi sconti dovete prendere saga perché così possiamo sclerare insieme perché quando voi entrerete nel mondo di saga sarà finita io ve lo dico poi mi odierete però poi non ve ne pentirete non so è una sensazione un po' conflittuale quella quando si entra nel mondo di saga saga che cos'è saga saga è fondamentalmente Romeo e Giulietta nello spazio però con tanta violenza disegni bellissimi e un sacco di azione un sacco di spostamenti e soprattutto un sacco di pugnalate nello stomaco preparatevi saga per me è diventato qualcosa di devastante io dopo questo che è il nono questo è l'ultimo non so ve l'ho detto l'ho letto prima di leggere non stancarti di andare grave errore perché poi ho letto anche l'altro mi sono tirata una mazzata da sola però i primi volumi di saga vi renderanno schiavi di questa serie davvero saga è bellissima è super avvincente ha dei disegni bellissimi e ovviamente è un volume che ragiona sempre di più su dei macro temi che dedica proprio ogni volume a un concetto di fondo che poi sviluppa nel corso della sua storia ripeto i disegni sono bellissimi e questo non è il più bello i più belli secondo me sono nel primo e nel secondo però io non so non so più come consigliarvela cioè davvero dopo voi dipenderete da questa serie io ve lo consiglio in tutte le salse a tutto ciò che secondo me in una storia di questo tipo ci deve essere dei temi interessanti un trattamento grafico pazzesco delle una storyline che si è trasformata nel corso del tempo e che diventa molto interessante ci sono emozioni proprio appalate tanta violenza tanto spazio tante varie realtà si indaga sull'essere umano oltre che sul concetto di famiglia di relazione di diversità è bellissimo saga è bellissimo è la vita io ve lo dico ogni volume costerebbe 14 euro quindi è l'occasione buona per rovinarvi la vita e iniziarlo io ve lo dico basta il mio compito è dirvelo ora lo poserò perché tutte le volte che lo tiro fuori dallo scaffale ci ripenso e niente questi sono i miei suggerimenti per questi sconti BAO non so se vi ho incuriosito spero di sì perché davvero sono tutte cose che io ho amato alla follia quindi insomma spero che vi siano piaciuti e vi possano piacere con gli sconti io penso temo anzi ne ho la certezza che farò abbastanza disastri e quindi niente io sono molto contenta che sia arrivato quel momento dell'anno che stavamo aspettando per finire ovviamente tutti i nostri risparmi e niente io come sempre sono contenta che abbiate seguito il video io come sempre spero di non avervi annoiato nel mio blatterare per un sacco di minuti e spero di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video ciao